Ma sicuramente non lo vivono come noi, cioè per noi entra fino a dentro l'anima il mare perché nascendo qui e crescendo qui è... per forza, per forza è così tanto che praticamente detta poi le scelte di quasi tutte le persone che vivono qua non dico che tutti fanno come ho fatto io il nautico, poi si sono scritti a biologia marina come ho fatto io però molti cercano di rimanere sempre in ambito... perché è un malessere pure che sente mio padre non ho mai potuto organizzare una vacanza in montagna, mai bastano due giorni lontano dal mare e già l'ansia, viene l'ansia